È uscito il trailer dell'evento di Natale, con Winter Express che ritorna, con tantissime nuove skill leggendari e molto belle da quello che ho visto, con il nuovo heirloom, ma prima, permettetemelo, primo video del periodo natalizio, mutate i prossimi dieci secondi. Non l'ho ancora guardato, lo guardiamo insieme, so che ci sono anche delle patch notes importanti corpose da leggere, quindi un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi video su questo evento, quando uscirà, manca poco, 7 dicembre è la data, e quindi pack opening del nuovo heirloom, gameplay nella nuova modalità e tutto il resto. Buona visione, fatemi sapere con un commento se l'avete già guardato, e in caso, qual è la novità secondo voi più succulenta? Senza che vi metta il link a schermo, vi ricordo, descrizione, primo commento in evidenza, link per Twitch live questa sera alle 21.00, quindi praticamente adesso, e discutiamo un po' di questo evento, giochiamo un po', attiviamo i sottotitoli, visto che si può fare, bella questa skin per la carabina. Vabbè che per la carabina ho la mia skin, non l'ho mai cambiata, però potrebbe essere alla volta buona, bella anche l'Oba, Riders Collection Event, dovrebbe essere un evento collezione a tema pirati, ce lo potevamo aspettare perché quando hanno rilasciato la nuova mappa, le opzioni erano sostanzialmente due, cioè evento a tema pirati o evento a tema spiaggia con l'Oba in bikini, e purtroppo hanno scelto la prima strada. Abbiamo visto anche patte flatline, mi sembra. Ragazzi, Winter Express, guardate, a me va bene tutto, l'ho già detto, cioè posso non rimetterla esattamente uguale agli anni scorsi, che è comunque la modalità migliore in assoluto. Se non l'avete mai giocata, fidatevi, godetevela, perché è veramente assurda, spawni con loot già deciso, diciamo. È proprio una modalità chill, che accendi per farti qualche partita veloce, molto carina, simile a quartier generale di COD, bella questa di Wraith. Anche quella di... non sei vista, vero? Perché c'è la mia faccia davanti. La skin di Valk assurda. Le skin le avevo già un po' viste, le avevo già un po' viste, come sto parlando, perché ovviamente, cioè, il trailer era uscito alle 19, io lo sto guardando alle 20 e 30, e quindi mi sono spoilerato tutto su Instagram e robe varie. Quella là di Pat, se devo essere sincero, non mi fa impazzire, forse finora è quella un po' più... Però le altre... mamma mia, Watson! Watson che dovrebbe ricevere l'Aerdom, spero di vederlo in questo trailer. Quella di Bloodyhunk, bella la musica, molto... molto pirati dei Caraibesca. L'ho detto bene. Eeeh, vabbè, Revenant con ogni evento riceve praticamente la skin più bella dell'evento. Questo evento non ne sono convinto, perché ne ho viste tante interessanti. Quella di Crypto dovrebbe essere epica, penso, non leggendaria. Oh, abbiamo la schermata con tutte le skin, aspettate un attimo, torniamo indietro. Allora, la cosa strana è che ci stanno 7 skill leggendarie per le leggende, di solito sono 6 per le leggende e 6 per le armi. E penso che sarà di nuovo così all'interno dell'evento collezione, intendo. Quindi, probabilmente, una di queste skin, mi viene da dire quella di Pathfinder, sarà all'interno magari del percorso evento a premi, o comunque ottenibile in altro modo, dico quella di Pat, perché è quella un po' più... Underwhelming, quindi penso che se ne regaleranno una, sarà quella. Eccolo! Oddio, oddio. Eeeh, sì, è quello che era stato liccato, che era stato trovato nei file di gioco alla fine. Sembra molto un mix tra un postamat, si chiama così, il robo dove paghi con la carta di credito, un Tamagotchi, in teoria, e un ventilatore portatile, non mi fa impazzire, cioè... Io avrei voluto un po' pazzo di Nessi, eccolo! Lo avete! Perché non l'avete messo? In arrivo il 7 dicembre. Trovatemi una skin brutta, cioè ve lo ripeto, scrivetemi un commento, ditemi la vostra skin preferita di questo evento, a me piacciono veramente tutte. Ribadisco, quella di Pat è quella un po' meno, però ragazzi, cioè, guardate Loba, guardate Watson. Ricordatevi di Breit e Valkyrie, Revenant, Bloody, mamma mia. In arrivo il 7 dicembre, vi prevedo, perché so che lo chiederete, in teoria alle 19 di sera, quindi vi aspetterò anche quel giorno in live alle 19, shopperemo, penso, subito le heirloom, faremo cose, e adesso abbiamo le patch notes corpose di cui vi avevo parlato prima. Io nel dubbio vi ricordo, come sempre, che in descrizione, forse, quando mi ricorderò, vi lascerò i link per guardare anche voi il trailer, per leggere anche voi le patch notes, ma è inutile che lo facciate, perché lo facciamo qua insieme. Allora, abbiamo il link al trailer che non importa. Abbiamo la skin di Revenant, già detto, veramente stupenda. Penso che utilizzerò questa come copertina. No, non è vero, perché ci sta l'heirloom di Watson. Winter Express non hanno scritto nulla, quindi immagino che sarà sempre la stessa, sempre su World's Edge. Mi sarebbe piaciuto magari vedere il trenino anche su Stormpoint, in qualche modo qualcosa di nuovo, però va benissimo che resti come una volta. Nuovo evento collezione, funzionerà come sempre, anche inutile leggere. Ci saranno 24 oggetti, 12 leggendari, 12 epici, lì collezioni tutti. Aka, li shoppi tutti, anche sfruttando i bundle che ci stanno qua. E ottieni l'heirloom di Watson, che dovrebbe essere qua sotto. Qua vediamo qualche skin che non abbiamo visto nel trailer, perché abbiamo tutte le skin delle armi, dovrebbero essere come sempre in combo con le skin delle leggende. Quindi abbiamo Rampage, questa è la Wingman. Abbiamo il Car, la Car SMG. Oh mio Dio, non riesco a riconoscere le armi. Abbiamo il percorso evento a premi, in cui però non vedo skin leggendari. Quindi la skin del patte, effettivamente. Ma probabilmente magari saranno allora 7 skin veramente leggendari per le leggende. È strano. Non lo so. Qua abbiamo altri bundle. Cioè, oltre ai bundle contenenti gli oggetti di questo evento, tornano anche skin di vecchi eventi, come sempre è stato. Abbiamo questa skin di Octane molto carina, Mirage, Caustic, vabbè, le cose le vedete. E io direi che va tutto bene. Qua abbiamo un'animazione completa dell'heirloom, non lo so. Cioè, io non riesco a farmelo piacere. Mi sarebbe piaciuto o un pupazzo di Nessie, o magari un Tamagotchi. Perché hanno fatto questo finto Tamagotchi? Vedete che ci sta Nessie dentro. A questo punto potevano veramente fare una reference ai vecchi Tamagotchi e fare un vero Tamagotchi. A me sarebbe piaciuto un sacco. Patch Notes, la parte più attesa. Allora, leggende, letteralmente niente. Fix per Watson, Ash e Bulk. Vi sottolino questo. Ossia, finalmente hanno incrementato l'audio dell'Ultimate di Ash. Forse riusciremo a sentirle. Fixati dei bug per quanto riguarda l'arena. Fixati altri bug, ma nulla di importante. Se non questo, che vi sottolineo. Ossia, hanno riportato allo stato originale, allo stato originario, la skin della carabina che era diventata un mix di altri due skin. Balance changes. Cambiamenti alle leggende. Sì, il restato potenziato. È stato ridotto il tempo necessario prima della detonazione dell'L1. Quindi, quando la lanci, c'è un certo tempo che passa prima che questa esploda, tra virgolette, segnalando i nemici. E quel tempo è stato ridotto. Sono state cambiate le Arkstar. Praticamente adesso, da quello che ho capito, rallenteranno un pelo di più, come facevano un tempo, ma i danni sono stati ridotti di tanto. Perché adesso dicono che il danno massimo sui nemici sticcati sarà di 40 invece che di 90. È stato rimosso l'aumento del caricatore sulle armi nella zona di Rampart, da quello che ho capito, delle armi da paintball, diciamo. Crafting. Adesso, quando crafti colpi shotgun, sniper e frecce, te ne darà di meno. Partite private. Non ho capito molto bene. Partite private dovrebbero essere quelle dei tornei. Quindi no, non hanno messo le partite private. Non vi illudete. Però hanno cambiato delle cose, soprattutto per gli admin, in generale per la gestione delle partite private, che abbiano aggiustato queste cose per preparare l'arrivo delle partite private per tutti? Non lo so. E questa, ragazzi, è la vera novità grossa di questa patch. Un intero nuovo sistema di customizzazione, di personalizzazione dei reticoli, dei mirini. Sarà possibile cambiare il reticolo scegliendo un colore preimpostato o inserendo manualmente un colore RGB, aggiustare la luminosità e tutto il resto. Tanta roba. Era una cosa molto richiesta. Non sarà più necessario mettere il daltonismo per avere un colore diverso per il mirino, ma potrai scegliere direttamente all'interno del gioco il colore che ti aggrada. E per il resto, sì. In verità, le patch notes non sono così grosse. Cioè, vi avevo detto cambiamenti corposi. In verità, sono stato un po' beitato. Cioè, vi ho beitati, ma sono stato beitato, perché ho visto patch notes enormi. E invece, per il resto, non c'è molto. Cioè, l'evento collezione, come sempre, pacchetti da 700 monete, ve lo ricordo, non dovrebbero aver cambiato. Collezioni tutto, ottieni l'air room di Watson, come vi ho già detto. Sono state innervate le stelle arc, è stato cambiato un pelo sir, potenziato sir. Qualche bug fix, tanti bug fix inutili, sti cambiamenti alle partite private che per i comuni mortali non sono interessanti. E questo nuovo sistema per i mirini. Fatemi sapere se lo stavate aspettando, cosa ne pensate. Un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, passate su Twitch, ragazzi, sono in live. Penso letteralmente adesso. Mine as creep while you and me repeat This bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating Grazie a tutti